Abbiamo questa ragazzina ingenua, pilina, che nell'età della pubertà si asceglie fuori di casa sola. La mamma è seriamente preoccupata per la figlia e per il mondo pericoloso che si appresta di scontrare. Stai coniugando piede i verbi. Il corvo è ubriaco. I verbi sono coniugati bene, anche la pietra probabilmente si va da piedi. Allora, la figlia una sera deve uscire, sotto le feste, e la mamma maternamente immaterale non è il corvo! Non è il corvo! Prima di uscire ti cerchi i giamani. Senta mamma maternamente, ha bisogno di traduzioni di acquidovi. Ragazza mia, ascolta alcune domande. Chi si cerca te ieri? Questa sera che stai uscendo? Allora, figlia mia, quando proveranno a toccarti i sedi, i sedi, per me, come le diventa, tu gli devi rispondere. No, che lì ci sono le specie. E poi, figlia mia, dopo che proveranno a toccarti i sedi, tenteranno di mettere la mano tra le due cosce. E ci si chiama, mamma, mamma. Tu ti hai detto, wake! Diti voi che lì c'è il cuoco che si riscalda. Ti brucia. Al che la povera e sproveduta Covincella apre l'uscio di casa e si appresta ad uscire per la sua prima sera fuori con gli amici. Così chiamolo prima sera fuori con gli amici. La povera e sproveduta Covincella al limbronino e torna a casa. La mamma è l'uscio. Ti chiamai? Allora? Ragazza mia, allora? No, mamma, era proprio come dicevi tu. No, mamma, era proprio come dicevi tu. Non ti chiedevo anche una buona provata a mettere i miei mani sul seno. Tu, ragazzi, hanno provato a mettere i miei mani sul seno. E tu, già ti chiedi, ti chiedi, mamma. E tu ti cosa hai detto? Che ha detto di spine. E chi sono le spine? E chi sono le spine? E chi sono le spine? E quindi sono staventati e sono andati via. Poi, la verità è mamma, mamma. La verità, o mamma, o mamma. Che ha un altro, ha trovato a mettere la mano, tanto. E tu, già ti chiedi, ti chiedi, mamma. E che cosa hai detto un figlio? Che ha detto, vuoi, ti chiedi, scao. E ti chiedi, vuoi, ti chiedi, vuoi? E tu? No, è il figlio. Breva, ti chiediamo. Breva, ti chiediamo. Breva, ti chiediamo. Voi mettiamo il taglio. Mettiamo il taglio. Ma no. Il mattino di sveglio, faccende domestiche, la sera, prima di uscire. Il mattino di sveglio, faccende domestiche, la sera, prima di uscire, la sera, prima di uscire. Il mattino di sveglio, faccende domestiche, la sera, prima di uscire. Il mattino di sveglio, faccende domestiche, la sera, prima di uscire. Il mattino di sveglio, la sera, prima di uscire, la sera, prima di uscire. Il mattino di sveglio, la sera, prima di uscire. Ma secondo le scrittude, come in tutte le storie, terzo giorno succede sempre qualcosa. Di nuovo, polizia, un fornero, un cerro, un corto per la polvere, la polizia, il bagno, le batteri, il cusci, le spagnezzocche, le suzate, la sera, la sera, la sera, la sera, la sera, la sera. governance, auto, piano, libri, la sera, la sera, la scuola, l' Wedelonne alle soluzione, la мало di uscire. buon divertimento usso sull'altezza generale un po' più ampio sull'altezza di più, di più, di più ancora sta accadendo si apre la porta allora i minorenni a casa perché adesso inizia ad essere si apre la porta e allora mi chiamano e allora? laura mamma se inizia è successa una cosa strana c'è che stai guidando ma c'è che cosa è successo? che cosa è successo? no mamma, l'avete solo chiedendo lo sacrestante la vita mamma, l'ho trovato? che cazzo? sacrestante? è anche briante, è sempre fatto e me, e me, c'è che dito quando mi dispacci? che cazzo? No, mamma, cosa ha detto quel birbante? Si preoccupava la mamma. Quale è il birbante? Quel figlio del birbante. Veramente? Quindi è pronta a mettermi i miei piedi. E ci sono detto. E ci sono detto che adesso hanno i spini. Ecco, non sai come ha risponduto, mamma. Ma sai quello che è il birbante? Se non ci sono attacca la spina, ci sono i miei piedi. Capito, capito. Sì, questo bimbi è morto. E' fregante, insomma. Questo bimbi è morto, è fregante. E' questo burbante che ha imbrogliato. Che ha imbrogliato, che ci ha imbrogliato. E poi, e poi, e poi, c'è che è successo. E poi, cosa è successo? Mamma, e poi, in giù ho fatto tutto qua. E poi, dopo, quello che ha imbrogliato. E poi, in giù ho fatto tutto qua. Io glielo ho fatto toccare. E poi, c'è chi ha detto? Ma a me, giù ho detto, cadere sto ovviamente. E' lui? E io mi ha detto, e' a rosto sta soltanto? Madonna! Madonna, cosa succede in morto? Ne fregate a tutto il tetto. Ne fregate, madonna, ma cosa succede in morto? Ma mamma, ma mamma, ma mamma, non è fregate. Perché dopo due ore che è tenuto l'accaso buco qui. Ma la questa moca stai ancora gru, no aga. No, no, no. Non è questo, da dire, che signore. ...urgo! E' qui? E' qui? E' qui? E' qui? E' qui? E' qui? Grazie